Ciao a tutti, sono Angela Calacco e ho partecipato al Dog Film Festival con il racconto breve di te. A dire la verità sono ancora un po' spiazzata dal fatto di far parte dei dieci lucitori. Infatti quando ho mandato il mio racconto al concorso, avevo semplicemente questa fortissima voglia di mostrare, e di mostrare per mezzo della scrittura la storia della mia cagnolina speciale. Passato comunque questo momento di stupore iniziale, posso dire adesso di essere felice di poter condividere con chi vorrà leggerla la sua piccola e grande avventura. Sono felice di potervi accompagnare sui prati in cui gioca, all'ombra del suo albero preferito, e anche a contemplare seduti accanto a lei un dolore tale da risultare difficile esprimerlo a parole. Spero che anche il mio primo libro, il mio primissimo libro, La Coda delle Stelle, edito da Leoni da Edizioni, possa esservi di piacevole compagnia. A presto!